Io più che abbattere voglio semplificare, voglio sfrondare da tutta un complessità di regole che più sono complicate e più consentono qualche volta anche un'applicazione impropria come è successo nell'università, come ho detto chiaramente e come è successo anche nella scuola in varie occasioni. Quindi semplificare, dare strumenti diretti, responsabilità e autonomia e chi sbaglia ne deve pagare le conseguenze. Chi invece fa bene deve essere premiato.